Giovanni Donnarumma, Vivi Centro, Edgar, debutto amaro dal punto di vista del risultato sul campo, ma grande gara la tua di forte personalità che metterà ancora più in difficoltà le scelte del mister. Sì, purtroppo abbiamo sofferto un po' gli errori degli arbitri secondo me, abbiamo fatto una gara, una prestazione buona sotto il punto di vista del sacrificio e purtroppo abbiamo subito questi errori, ci hanno penalizzato gravemente in una maniera importante, ma contento per i miei compagni e anche per me che sono tornato a giocare da tanto tempo. Dobbiamo pensare alla prossima gara martedì a Cava, un altro derby, un'altra partita che dobbiamo arrivare con questa mentalità e andare a cercare i tre punti come facciamo sempre, almeno da quando sono arrivato, con grande voglia e in convinzione di portare i tre punti a casa. Sì, io sono venuto qua per crescere giocando, sono venuto per trovare uno spazio e giocare i più minuti possibili da qua alla fine anno. Oggi il livello personale è andato bene, certo che ci sono cose da migliorare, ma sono contento per tornare a giocare come ho detto prima e dare una mano alla squadra che purtroppo non abbiamo preso i punti, però possiamo essere tranquilli che abbiamo fatto una grande prestazione. Bene, bene, dall'inizio i ragazzi mi hanno accolto benissimo, benissimo i ragazzi, i compagni, pure quelli che lavorano nella società, i maestri, i fisioterapisti, tutti, tutti, mi sto sentendo come a casa, sono davvero contento, mi sto allenando bene, c'è una squadra giovane, con tanta voglia, umile, mi piace, sono contento di essere qua e ringrazio i miei compagni, al mister per la fiducia e dobbiamo continuare così, lottando. Ultima, Natale Giusti, Vivi Centro, Edgar, grande prova, grande personalità mostrata in campo, qual è il ruolo che preferisci e ti trovi meglio in una difesa a tre o a quattro? A me mi piace giocare in centrale, in difesa, già sia a tre o a quattro, ma da quando sono arrivato con Italia mi hanno inserito pure da tarsino, ho imparato tanto, anche là in Uruguay, in Sud America no, non lo facevo tanto, però ho imparato pure, mi sento comodo, ma di centrale, non so, mi diverto di più, posso guidare un po' la squadra, sentirmi più partecipe nella partita, ma sono venuto qua per dare una mano e poi posso dare una mano dove pensa il mister, devo solo stare pronto a allenarmi e dare una mano a la squadra. Grazie Edgar. Grazie a voi. Grazie a voi.